Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Eros Ramazzotti senza freni. Il cantautore commenta così la nuova fiamma di Michel Lui ha sfaltato come mai nessuno aveva fatto prima. Ecco che cosa sta succedendo nei dettagli Eros, Michelle e Giovanni Angiolini.Eros Ramazzotti geloso della nuova fiamma di Michel Lunziker? Il cantante commenta così il nuovo amore della conduttrice svizzera Michel Lunziker di nuovo felice.Dopo un periodo sentimentale abbastanza turbolento, la bella conduttrice svizzera sembra aver ritrovato il sorriso e il merito e senza ombra di dubbio di un uomo Non si tratta di Trussardi né di Ramazzotti ma di Giovanni Angiolini Michel.Il medico chirurgo specializzato, in ortopedia e traumatologia, nonché ex protagonista del grande fratello 14, ha fatto breccia nel cuore della bella bionda che può tornare a sorridere alla vita dopo mesi davvero lui Anche se ancora non c'è stata una conferma ufficiale di questa nuova relazione, ormai non ci sono più dubbi Il settimanale tedesco Bundt ha fotografato la Svizzera con Angiolini mentre erano intenti a scambiarsi e fusioni pubbliche Michel e Angiolini.A quanto pare però, la nuova fiamma Michel non sembra piacere particolarmente all'ex marito Eros Ramazzotti Sapete come ho commentato il nuovo flirt della sua ex moglie? In questo modo Eros stronta la nuova fiamma di Michel.Eros Ramazzotti e Michel Lunziker con il loro amore hanno fatto sognare tutti Bellissima conduttrice lei, nel pieno del successo, cantautore super affermato lui, hanno detenuto per anni il titolo di coppia più bella d'Italia Eros e Michel.Purtroppo però la fine di questo importante sentimento ha lasciato degli strascichi pesanti tanto per lei che per lui I due sono rimasti ugualmente in ottimi rapporti, come si è potuto notare recentemente nella trasmissione condotta proprio dalla Lunziker, Michel Impossible Le cose con Eros vanno alla grande tanto che si sono professati grandi amici e si sono scambiati addirittura un bacio sulla bocca davanti a tutti Michel, oggi, dopo la separazione da Tommaso Trussardi sembra stare bene grazie a Giovanni Angiolini Sembra però, che la nuova fiamma della Lunziker non piaccia molto al cantautore Avete visto come ha reagito alla notizia? Nelle scorse ore il cantante ha pubblicato una Instagram Story nella quale si vede uno studio di registrazione Eros, la nuova fiamma di Michel.Fin qui tutto nella norma, Ramazzotti starà sicuramente incidendo una nuova canzone Ciò che ha attirato l'attenzione dei fan, è la frase che accompagna l'immagine, un aforisma di Victor Hugo che recita Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime Molti suoi social hanno pensato che questa frase, Eros l'abbia voluta rivolgere proprio a Michel lanciando una frecciatina al suo nuovo amore Forse Ramazzotti è ancora geloso della Lunziker? Magari nel suo nuovo pezzo troveremo qualche riferimento puramente casuale a qualcuno? Staremo a vedere Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video